Musica Cari amici del TMV News, buonasera, benvenuti alla puntata 1448 della nostra trasmissione. Tanti temi come sempre da trattare, la lotta a Scudetto in primis con Napoli e Milan in testa alla classifica, ma anche la crisi della Juventus e poi Vlaovic che continua a segnare nonostante abbia già la valigia in mano. È venuto a trovarci oggi in studio il direttore del TMV Radio Niccolò Ceccarini, buonasera, benvenuto. Buonasera a te, buonasera a tutti, ciao Lorenzo. Complimenti per le puntate, perché le tieni tutte a memoria in conto, quindi quando arriverà la 2000 io voglio esserci, è puntata numero 2000 io ci voglio essere. E io me lo segno perché non potrai mancare. Però dicevo della lotta a Scudetto con il Milan che ieri sera ha risposto al Napoli, sono state due partite diverse, il Napoli probabilmente ha incontrato qualche difficoltà in più, ha risentito anche dell'assenza di Osimen, il Milan finché è stato in parità numerica ha mostrato tutta la sua superiorità nei confronti della Roma e ha ritrovato anche un Ibrahimovic in gran spolvero. Mi sembra che il campionato oggi stia dicendo che Milan e Napoli sono le squadre che veramente hanno qualcosa in più, entrambe hanno avuto delle difficoltà, il Milan probabilmente più del Napoli, soprattutto dal punto di vista dell'assenza e dell'organico, però il Milan è in testa alla classifica, quindi oggi è una squadra che può lottare per lo Scudetto, una squadra da Scudetto e non può più nascondersi, anche perché riesce sempre a tirare fuori delle prestazioni importanti in campi difficili. Ora l'ultimo test di questo periodo è rappresentato dal derby, se poi dovesse davvero passare anche il test del derby a quel punto il Milan sarebbe veramente in una direzione ben precisa verso la possibilità di giocarsi fino all'ultima giornata allo Scudetto. Quanto al Napoli sì, manca Osimen, però il Napoli anche quando non ha la giornata migliore, ha talmente tanta qualità là davanti, soprattutto anche nel settore centrale del campo, perché ci sono giocatori offensivi come Zielinski, come Fabian, che comunque hanno sempre la possibilità di inserimento e risolvono loro quello che magari in quella giornata non può essere risolto dalle punte e dagli attaccanti. Quindi Napoli molto bene e sono due squadre secondo me che soprattutto hanno dimostrato di crederci moltissimo, cioè che sono veramente con la mentalità giusta. Più tardi parleremo anche delle polemiche che hanno caratterizzato la partita tra Roma e Milan. Adesso però ti voglio chiedere, tornando al Napoli, che cosa pensi della questione Insigne? Ieri è stato tenuto a riposo, non è stato fatto entrare da parte di Spalletti, ci sono state anche un po' di dichiarazioni polemiche da parte dello stesso Spalletti in risposta a chi gli chiedeva conto di questa situazione legata a Insigne. Quali sono gli aggiornamenti anche sul suo rapporto con il Napoli? Io credo che il rapporto con il Napoli sia migliore rispetto a due mesi fa, fondamentalmente, quando ancora non si cominciavano a parlare, quando ancora non avevano messo sul tavolo delle trattative determinate cifre o quantomeno non erano ancora arrivati a parlarsi e a guardarsi negli occhi. Quindi io credo che il dialogo sia sereno. C'era comunque un affaticamento per Lorenzo Insigne, non era al top della condizione, ci sono tante partite, si rigioca giovedì, poi c'è domenica un altro match contro il Verona, se non ricordo male, per il Napoli. Quindi a maggior ragione c'è anche da fare un po' di turnover. Io credo che quando però due parti vogliono entrambe la stessa cosa, ci sono buone possibilità di raggiungerla, perché il Napoli non vorrebbe rinunciare a Insigne e Insigne vorrebbe rimanere a Napoli. Poi è chiaro che ci sono di mezzo i soldi, ci sono di mezzo i contratti, ci sono di mezzo anche le ambizioni di un calciatore. Però secondo me la situazione è migliore rispetto a due mesi fa. Questo non significa che Insigne rinnoverà il contratto con il Napoli, però è un qualcosa che secondo me sta procedendo in una direzione di confronto e quando c'è il confronto secondo me è molto positivo. Prima parlavi del derby della Madolina e allora resto sul tema rinnovi, perché l'Inter sta lavorando per prolungare il contratto di Brozovic e anche quello di Barella. c'è stata proprio una dichiarazione in questo senso da parte di Inzaghi, un invito alla società a procedere e a cercare di risolvere velocemente la situazione. Allora, per quanto riguarda alcuni giocatori in fase di rinnovo, direi che Barella ormai ci siamo, Barella ha il rinnovo fatto fino al 2026. Per quanto riguarda Brozovic, ecco io sono rimasto un po' perplesso, un po' stupito dalla prima offerta fatta dall'Inter, Lorenzo, perché se tu dai 6 milioni a Ciananoglu, dare e fare un'offerta da 4 milioni abbondanti a Brozovic in scadenza di contratto, mi è sembrato un po' un'offerta bassa, non che poi voglio dire lui non la dovesse accettare, poi ci mancherebbe, avrebbe fatto un gran gesto comunque, però è anche giusto che secondo me oggi Brozovic è un po' il pendolo di tutto quello che è il gioco fondamentale dell'Inter e quindi un giocatore così, un elemento così importante, secondo me deve valere almeno 6 milioni di euro e credo che arriveranno poi a fargli questa offerta, però ha ragione Inzaghi perché oggi è veramente determinante. Tra l'altro c'è chi ha sostenuto che i continui cambi di agente da parte di Brozovic abbiano rallentato la vicenda del suo promulgamento del contratto, adesso il padre è diventato l'agente, quindi a questo punto ci potrebbe essere un dialogo migliore? Io non lo so, sinceramente, però io penso che quando ci sono due dirigenti come Marotta e Ausilio, insomma hanno dimostrato con i fatti allo stesso tempo di andare velocemente a sistemare alcune situazioni, prima Lautaro e poi Barella e poi comunque sia quando c'era da sostituire i giocatori che sono partiti in particolar modo Lukaku l'hanno fatto velocemente, anche Correa oggi si sta rivelando un giocatore azzeccato, anche se è stato pagato 30 milioni di euro, per cui quando hai una società forte secondo me alla fine la quadra si trova sempre, poi sai Brozovic adesso si è gestito da suo padre, penso che comunque sia alla fine al di là di quello che può essere un procuratore o l'altro, se lui ha la volontà l'accordo si trova e io credo che lui non voglia andare via dall'Inter, per cui magari ci sarà bisogno di un po' di tempo, ma poi secondo me qui si va addirittura d'arrivo. Parliamo adesso della crisi della Juventus, riduce da due sconfitte consecutive in campionato contro lo Sassuolo e contro il Verona, adesso i bianconeri giocheranno domani in Champions con lo Zenit, poi sabato ci sarà la partita con la Fiorentina e proprio fino a sabato rimarranno in ritiro per cercare di venire fuori da questa situazione davvero incredibile perché parlando della Juventus era inimmaginabile che potesse trovarsi a questo punto del campionato con solo i 15 punti in classifica. Quali sono i motivi di questa crisi a tuo parere? da dividere naturalmente tra i giocatori, il tecnico, la società? È una crisi tecnica che però detta così sembrano relativa all'allenatore, in realtà è una crisi di giocatori perché comunque alla Juventus manca un grande centrocampista infatti io penso che poi andranno a prendere, proveranno a prendere Vizzele a gennaio che comunque sia un giocatore che gli dà un po' di ordine, un po' di qualità, un po' di fisicità loro ne hanno bisogno e gli manca un grande bomber, c'è poco da fare, mi sembra abbastanza l'abbiamo detto mille volte anche a TMV Radio, lo ribadiamo oggi al TMV News in sostanza alla Juve manca un grande bomber perché poi alla fine perdi Ronaldo perdi 30 gol di Ronaldo, Morata non è un grande bomber, è un ottimo attaccante ma non è un bomber, Ke non è un bomber, Chiesa è il miglior attaccante italiano ma non è un bomber e poi qualcuno dice sì, facendo poi la somma di tutti questi tre giocatori o quattro giocatori si dovrebbe arrivare ai gol di Ronaldo, sì, però c'è anche un aspetto diverso che il grande bomber o quantomeno il giocatore che è là davanti ti realizza il gol nel momento decisivo, cioè oltre a farlo in maniera continuativa nel momento decisivo, alla Juve manca questo e poi un po' ci ha messo del suo anche Allegri perché evidentemente la gestione del gruppo oggi di Allegri non è come quella del passato e poi soprattutto parlando di Allegri, servirebbe un gioco diverso probabilmente Allegri ha pagato questi due anni in cui è rimasto fermo e in cui non si è aggiornato per sua stessa ammissione ha detto di non aver visto una partita sì, però io non credo che voglio dire uno come Allegri che abbia bisogno di vedere le partite per aggiornarsi su questo insomma poi ognuno la può pensare come vuole probabilmente un conto è gestire, un conto è dover fare conti con una squadra che non ha più quei campioni sono d'accordo, però non è che sono passati 20 anni voglio dire il calcio non è che è cambiato in questi ultimi due sicuramente si è velocizzato, tutto va sempre a 3000 all'ora però non è questo il problema vero di Allegri secondo me Allegri oggi vorrebbe giocare con la Juve metterla in campo col 4-2-3-1 perché fondamentalmente i giocatori che lui ha a disposizione sono adatti a questo ruolo, a questo tipo di modulo perché potrebbe giocare con Kulusevski e Chiesa esterni e Di Vala alle spalle di Morata e quindi creerebbe una situazione offensiva di quattro giocatori forti il problema è che poi mezza campo che mette? cioè mette Bentancur e Locatelli oppure Locatelli e Arthur e non c'è il filtro, non c'è in quel modo lì il filtro per cui il 4-2-3-1 di Allegriana memoria che aveva permesso anche di far giocare Mazzucic come esterno alto a sinistra non può in questo momento esistere per motivi anche di equilibrio ed ecco perché secondo me Allegri oggi fa un po' fatica perché gli mancano i giocatori e secondo me vorrebbe giocare magari in maniera diversa e non per questione di equilibrio lo può fare bene adesso parliamo nello specifico di Roma-Milan e lo facciamo collegandoci con Roberto Scarnecchia che ha giocato in entrambe le squadre ciao Roberto, buonasera ciao Lorenzo, buonasera a te qual è il tuo stato d'animo? diciamo così innanzitutto da ex giallorosso naturalmente ci sono state tante polemiche legate all'arbitraggio Murigno che ha detto preferisco non parlare altrimenti mi squalificano ma naturalmente ci sono state tante polemiche legate alla direzione di gara di Maresca tu come l'hai vista? ma l'ho visto male un arbitro che ha sbagliato tanto da una parte e dall'altra forse sbagliando un pochino più per la Roma ha penalizzato un po' appunto i giallorossi però in effetti ha sbagliato tantissime cose anche l'espulsione di Hernandez insomma diciamo che non ha brillato risultato 2-1 ci può anche stare perché il Milan ha giocato meglio magari il pareggio poteva arrivare ma se il Milan magari non rimaneva in 10 non sarebbe arrivato perché magari il rigore su Pellegrini c'era ci sono tanti ma e se o perché ma il problema è che il risultato è finito così la partita è finita così il risultato è stato questo bocciato assolutamente l'arbitro a me le squadre sono piaciute tutte e due chi in un modo chi in un altro ma comunque sono due squadre che lotteranno per un posto in Champions League ecco però la Roma è diventata veramente pericolosa quando si è trovata in superiorità numerica Murigno probabilmente con il suo sfogo ha voluto anche spostare l'attenzione rispetto ad una partita che non è stata all'altezza da parte della Roma o comunque in cui i giallorossi si sono dimostrati inferiori rispetto al Milan al di là appunto di questi torti arbitrali presunti o comunque presunti tali ma guarda che tante volte magari non è la Roma che ha giocato male ma il Milan che ha giocato bene perché noi facciamo sempre i conti senza considerare l'avversario se l'avversario è più forte è normale che vai in difficoltà secondo me il Milan comunque il primo tempo è stato superiore diciamo che le azioni sono state abbastanza stelli da una parte e dall'altra un gol molto particolare sia il primo il rigore il secondo rigore Bagnez tocca la palla e tocca Ibrahimovic insomma ci sono tante considerazioni da fare però ecco ripeto nella complessità o comunque nel suo nei suoi 90 passi a minuti con recupero il Milan è stato superiore poi ripeto queste partite possono finire anche in pareggio quindi credo che a questo punto il risultato sia giusto ma ripeto l'arbitraggio è solamente da da cancellare insomma poverino l'arbitro mi fa anche un po' sul tuo profilo umano mi fa anche un po' di tenerezza perché ho sbagliato tutto Stiamo anche il direttore Ceccarini che voleva intervenire condivido l'analisi condivido l'analisi anche perché secondo me la partita comunque sia alla fine il Milan l'ha giocata meglio della Roma complessivamente però ci sono tanti episodi e negli episodi poi spesso e volentieri cambia anche il risultato in base alla prestazione però questo secondo me la conferma ancora una volta per me di due elementi al di là della prestazione e della partita in sé per sé che la Roma deve fare mercato a gennaio perché la Roma a gennaio secondo me deve trovare qualche soluzione diversa soprattutto per quanto concerne il centrocampo perché lì è un po' corta la coperta e il Milan sta dimostrando adesso una squadra da Scudetto cioè perché questo è un altro test importante nel quale il Milan è venuto fuori alla grande alla grandissima perché alla fine ha portato a casa questo risultato questi tre punti e oggi il Milan ha anche un discreto vantaggio come del resto il Napoli sulla terza in classifica che è l'Inter c'è il derby e quindi a maggior ragione diciamo questo periodo di fuoco del Milan si chiuderà domenica prossima però insomma secondo me i verdetti del campo dicono qualcosa anche in questo senso Roberto sei rimasto deluso da Abraham perché era partito molto bene l'attaccante giallorosso e questo campionato poi è andato via via spegnendosi e ieri è stato praticamente nullo ma sai gli attaccanti sono giudicati in maniera particolare perché comunque sicuramente magari sono in ombra fino a un certo punto poi fanno due gol uno attaccato all'altro e diventano i fenomeni della partita della gara e quindi magari Abraham ha giocato le prime gare facendo gol muovendosi molto secondo me ha un piccolo problema fisico però lui è un generoso vuole stare in campo lo stesso e questo sicuramente l'ha penalizzato perché comunque quando entri in campo che non sei in perfetta forma fisica soprattutto quando il calcio è molto dinamico come adesso è normale che ne risenti quindi direi che mi aspetto sicuramente che torni l'Abraham di prima è un giocatore che a me piace molto è chiaro che nel momento in cui una, due partite tre partite non le azzecca ma le punte ci sta può succedere però ecco ripeto a me la Roma nel complesso non è dispiaciuta nel senso che al di là del risultato però questa è la strada giusta il direttore diceva una cosa giusta bisogna ricorrere un po' al mercato di gennaio sul centro campo perché secondo me effettivamente lì soprattutto delle impostazioni c'è solo veretù e Cristante l'avrei abbassato prima in mezzo ai Bagnez e Mancini però ecco ripeto insomma c'è da migliorare però è ancora quarta in classifica è lì la Roma è lì e quando Murigno ha inserito nel secondo tempo al posto proprio di Abram un 2003 come Felix è stato questo a tuo parere un messaggio di sfida alla società considerando anche che c'è Borca Maioral che era stato acquistato addirittura come alternativa a Dzeko adesso è in tribuna non può fare neanche la riserva? Guarda lasciando perdere un po' la considerazione di quello che è successo dopo il 6 a 1 in Coppa io credo che Murigno non è che dà dei segnali perché comunque c'è Murdov c'è Borca Maioral appunto Ebreme e Felix c'è quattro punte di ruolo che nessuna squadra ce l'ha forse in Europa di ruolo così lasciamo perdere i valori quindi credo che debba solo trovare un attimino di continuità è chiaro che lui non ha non ha messo Felix come l'ha fatto l'altra volta invece che Shomurdov ha messo me Felix l'ha fatto perché il ragazzo si è mosso bene anche nella partita con Napoli quindi gli ha dato fiducia ma non sono tutti per forza segnali negativi possono essere anche segnali positivi di un collettivo che è buono lì davanti poi rientrerà Borca Maioral sicuramente Shomurdov per ritrovare la condizione Ebreme ritrovare la condizione sono momenti io ho giocato tanti anni a calcio sono momenti che non ti gira niente come non sta girando niente la Juventus per cui io credo che questi momenti devi passarli solamente con il lavoro lavoro e non guardare dietro cioè volta pagina e c'è una pagina bianca che è la settimana di lavoro per poi affrontare la prossima gara questa deve essere la filosofia Direttore ti aspetti anche qualcosa in attacco per la Roma non è una probabilità probabilmente però comunque ci potrebbe essere qualche intervento anche in quel settore ma potrebbe esserci solo per un motivo molto semplice che se poi Borca Maioral non viene mai utilizzato e non viene mai messo in campo e alla fine vuole dire c'è Shomurodov e Abram quindi alla fine non è che puoi andare tanto a scialare in quel settore del campo devi avere anche delle alternative molto dipenderà anche da da quello che vogliono fare perché secondo me insomma ci sarebbe anche qualcosa di interessante sul mercato però per esempio Borca Maioral l'anno scorso ha fatto 17 gol ora quest'anno non gioca e quindi chi viene oggi a sostituire un giocatore che viene in tribuna o viene messo in tribuna o l'alternativa è Shomurodov e quindi lanciano un giovane e allora secondo me la situazione magari può starci Felix o a quel punto rimangono voglio dire nell'idea di prendere un altro attaccante ma per farlo giocare io sono convinto che alla fine lanceranno Felix insomma la strada sembra essere quella perché Mourinho evidentemente crede nel calciatore sai che mi rivolgo sempre al direttore Ceccarini Roberto Sondinca è un grande chef eh io se gli dico quali sono i miei alimenti preferiti probabilmente cioè si chiude qua il collegamento però va bene lo stesso insomma e quindi qual è diciamo il suo piatto per quello che gli riesce meglio e poi volevo capire anche che cosa quale sarebbe il piatto che potrebbe proporre ai tifosi giallorossi per addolcire il palato a un sostenitore della Roma oggi allora per rispondere al direttore cosa ti piace direttore dimmelo così ti faccio il piatto io ho una dieta un po' particolare per cui non so se è il momento di esternare tutto diciamo che mi piace mangiare la roba in bianco ecco e con questo abbiamo tolto il campo allora stai a casa stai a casa è meglio stare a casa ecco voglio dire siamo in due perché io faccio triathlon per cui immagina come mangio io beh comunque no ma in bianco vabbè ti faccio il filetto va bene sì il filetto va bene con un riso bilas basmati alla grande direi allora siamo pronti invece per addolcire il palato al tifoso giallorosso oggi il mio tiramisù che è particolare quindi sarebbe strappo quello però sarebbe la strappo alla regola ma nel caso strappo alla regola ecco sì fallo perché sono venuti sai che è ottenuto è morto da qualche giorno il fondatore del tiramisù che è di Treviso 93 anni è venuto dei clienti di Treviso e non ci credevano invece il mio direttore di sala gli ha detto guarda che lo chef fa il miglior tiramisù di Roma e tu affigurati io vengo da Treviso allora ha detto vabbè io te lo do se non ti piace o comunque non te lo faccio pagare alla fine quando l'ha mangiato ha detto dì allo chef di venire su a fare la gara quando c'è la gara di tiramisù perché la vince e allora comunque era un po' di autoelogio che non è che però comunque ci ha messo la curiosità e quindi quando io e il direttore saremo a Roma la tappa obbligata sarà il tuo ristorante anche soltanto per assaggiare il tiramisù poi per mangiare anche altre cose filetto a questo punto per forza filetto sicuramente zacchettacche però non mi chiedere di fartelo cotto assolutamente io mi fido scecamente di quello che proponi va bene Roberto grazie mille per il tuo intervento ciao Roberto grazie ciao direttore ciao buona serata ben dunque abbiamo scherzato con Roberto Scarnicchi adesso però parliamo di Vlaovic che reduce dalla tripleta segnata ieri con lo Spezia l'attaccante serbo continua a segnare nonostante abbia la valigia in mano a Firenze si chiedono in molti che cosa succederà con questo calciatore se verrà ceduto a gennaio se partirà a giugno se verrà fatto rimanere fino alla scadenza del contratto per poter sfruttare al massimo le sue grandi capacità di andare a rete direttore Ceccarini che cosa succederà ma secondo me andrà via giugno io penso che sia molto difficile e complicato che possa accadere qualcosa soprattutto nel mercato di gennaio anche se forse per la Fiorentina sarebbe più opportuno vendola a gennaio perché più lontana è la scadenza e più la Fiorentina può ottenere dei soldi importanti magari dall'Atletico Madrid dai club esteri perché in Italia è chiaro che è un obiettivo molto preciso della Juventus che punta a prenderlo nel mercato estivo e quindi prima non credo possano fare un'offerta alla Fiorentina e bisogna vedere poi anche quale sarà la volontà di Vialaovic però per me partirà a giugno io credo che non possa andare via prima di giugno e per la Fiorentina se lui è questo è sicuramente un bel vantaggio perché avere un Vlaovic in queste condizioni da qui a giugno chiaramente permetterà alla Fiorentina di migliorare sensibilmente la sua classifica si è parlata anche di un'ipotesi del Tottenham peraltro non nuova perché anche in estate era venuta fuori sì anche il Tottenham infatti fa parte di quelle squadre straniere c'è anche il Manchester City vediamo quale può essere fondamentalmente la squadra è chiaro che la Fiorentina se dovesse proprio venderlo a gennaio lo vorrebbe vendere all'estero ma anche a giugno all'estero bisogna capire se poi invece l'intenzione di Vlaovic è quella di rimanere in Italia oppure di percorrere altre strade e in quel caso naturalmente per la Fiorentina sarebbe tutto molto più semplice perché venderlo prima significa magari prendere anche 60 milioni di euro venderlo a giugno comincia a essere tantissimo se vai a raccogliere 45 abbondanti ecco perché non credo sia molto semplice andare oltre però ora in ogni caso non sarà semplice sostituire un attaccante così forte assolutamente no anche se un nome io ce l'avrei attenzione a Borca Maiorale eh sì perché ne parlavamo proprio poco fa è stato di fatto tolto dal gruppo dei titolari anche delle riserve della Roma e quindi probabilmente i giallorossi saranno costretti a cederlo siamo in conclusione di questa edizione del TMV News grazie al direttore di TMV Radio grazie a te Lorenzo puntata 2000 ci sarò sicuro me lo sono già segnato come ti ho già detto grazie a tutti per averci seguito appuntamento a domani grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!